Ovunque sei la pizza che vuoi. Il tema che Cinefest presenta quest'anno ha come oggetto la figura della donna nel cinema, quindi saranno protagoniste le grandi icone del nostro tempo, che hanno comunque saputo dettare i tempi di una cultura che cambia, costumi che cambiano e che hanno ispirato migliaia di donne dopo di loro e che in parte li ispirano anche adesso. La bella cosa di quest'anno, di cui comunque sono molto orgogliosa, è la capacità di creare un dialogo fra festival, fra ricerca e culturale nella nostra città, dialogo che si è definito in questo crossover fra festival del cinema, Cinefest, e impronte femminili, tanto da fare una serata che sarà la serata conclusiva della quarta edizione di impronte femminili, ma anche la serata conclusiva del Cinefest di quest'anno, il 22 di luglio, una serata dedicata al corto d'artista intorno alla poetica di Mara Cerri, con due proiezioni di due cortometraggi che sono stati presentati al festival del cinema di Venezia e quindi vi invitiamo a quella che sarà una bellissima serata di cultura e di cinema e di arte.